Andrea grazie mille di questa chiacchierata, sono contento di esserti venuto a trovare, tu hai fatto un sacco di lavori, hai una storia lunghissima, ma oggi in particolare sono venuto a trovarti sia per chiederti un po' di cose, raccontarmi la tua storia, ma siamo negli studi della Sony qui a Milano dove tu sei resident con il tuo strumento, poi facciamo anche un po' di studio tour, come funziona qui in questa struttura bellissima, cioè tu lavori qua in che modalità? Allora guarda è stato un automatismo perché gli ultimi sette otto anni di lavori che ho fatto in studio sono pressoché quasi tutti nati grazie alla collaborazione che avevo con un produttore, che negli anni poi è diventato anche A&R Sony ed ora è uscito da poco perché è diventato il manager dei Maneskin, si chiama Fabrizio Ferraguzzo, che tra l'altro credo, non vorrei dire una bagianata, è stato uno di quelli che ha dato proprio l'imprinting e l'idea di fare lo studio interno a Sony, quindi di conseguenza mi sono ritrovato ad essere un batterista residente qua. Sì perché a Sony in sostanza in questa struttura viene prodotto tutto all'interno? Non tutto ma parecchi lavori vengono praticamente costruiti qui dai provini al prodotto finito. Come ti sembra questo sistema di lavoro che state adottando qua? Non lo so sai è difficile giudicare, mi sono adeguato, cioè un tempo i lavori in studio erano molto più dilatati nei tempi, ora è diventato tutto più veloce, quindi di conseguenza probabilmente c'è un po' l'idea di smart, quindi anche lo studio non è più enorme come un tempo, è un po' più piccolo, si lavora tutto in digitale e probabilmente anche i tempi di chiamata sono cambiati, mentre prima avevi magari già un'agenda di mese in mese già coperta, ora ti chiamano anche un giorno prima a volte, quindi è tutto è tutto cambiato in questo senso. Senti noi qua siamo a Milano ma tu sei di Ferrara e non ti sei mai spostato da lì ho appena scoperto. No in realtà è sempre stata una mia scelta non tanto da provinciale quale sono comunque perché nel bene o nel male la mia città mi dà uno stile di vita che mi fa sentire ancora protetto, mi sento bene comunque e quando vengo a Milano per quanto c'è ancora tanta capisci che tutto qua in movimento e c'è tanto lavoro però è una città un po' difficile in cui vivere perché è tutto molto veloce. Allora parlami un po' della tua storia, io so che tu hai avuto un grande mentore e insegnante che è Lede Bandini, come è andata? Spiegami un po' dall'inizio della tua, il tuo percorso di studi come sei entrato in questo circuito perché noi possiamo definirti un batterista session man, anche se alcuni sostengono questo lavoro un po' finito, cambiato, non è più il lavoro del turnista, a volte quando faccio interviste e dico tu hai fatto il turno del turnista non esiste più. Spiegami come è andato un po' il tuo percorso dall'inizio. Guarda è stato, non dico casuale perché la musica in casa mia è sempre esistita, mio padre era comunque un batterista anche se non proprio professionista, comunque lo faceva anche non solo come dopo lavoro, in parte anche lavorativamente perché aveva il doppio lavoro, ai tempi non esisteva ovviamente il turnismo come inteso oggi, lavorava con un'orchestra moderna e quindi faceva serate ai night club che allora non erano cose proibite, ma erano cose per tutti, erano le discoteche di fatto, prima del dj esistevano i night club dove si ballava con la musica del vivo. Caso vuole che nella mia città c'era questo grande batterista che era Lede Bandini, che era anche un mio vicino di casa nonché amico di mio padre, quindi un po' per casualità, un po' perché si vede che il destino è quello, lui non aveva un posto vero e proprio dove studiare, dove fare le prove e montava spesso la batteria a casa mia, fin da piccolino, per fare le sue prove, per studiare, perché comunque Lede è sempre stato uno che si è sempre dedicato allo studio, a prescindere dalle tournee o dai lavori in studio che aveva da fare. Quindi io da piccolino, sognante, andavo giù e lo guardavo in questa mia salettina che era adibita tutta con i cartoni di uova, che una volta era quello il massimo delle sognazioni, lo guardavo e sognavo e nel mentre mi accingevo a avere i primi studi del pianoforte, perché poi di fatto ho fatto un po' di conservatorio del pianoforte ed ero un pianista agghiacciante sotto tutti i punti di vista, non solo indisciplinato perché ero estremamente infantile, tanto quanto ora del resto, ma ero proprio non portato, sai quando capisci di avere comunque dentro qualcosa da esprimere e non ce la facevo col pianoforte, ero proprio frenato, però è stato un bene comunque perché io sono sempre dell'idea che avere l'approccio su uno strumento armonico e portarsi su uno strumento ritmico secondo me ti dà magari quel qualcosa in più a livello di musicalità probabilmente, che è quello poi che credo che abbia fatto la differenza nel mio percorso, perché io non mi sono mai ritenuto né un talento né uno capace, però sicuramente avevo una buona musicalità. E quindi tu hai studiato con Ellade o hai imparato vedendolo suonare? No, in realtà ho guardato tanto, ho capito tutto quello che potevo, però poi mi sono dovuto portare anche a fare degli studi privati con lui naturalmente, perché tutto quello che erano i paradido, la tecnica iniziale, o comunque me l'ha data lui. E da lì in poi è stata tutta una crescita mia personale, perché mi sono portato poi magari, perché avevo più voglia di crescere, quindi mi sono magari portato a lavorare con musicisti un po' più capaci della mia zona, fino ad arrivare alle cover band, e poi da lì successe magicamente una chiamata per un'audizione. Di che anni stiamo parlando? Stiamo parlando del 94, che un grande pianista della mia zona, che non c'è più da qualche anno, che aveva bisogno di cercare un batterista per un artista, tra virgolette, esordiente in quel momento, però era già un artista abbastanza affermato per l'epoca, e devo dirti la verità, per una grande casualità, perché lui era una persona che probabilmente amava il suo territorio, quindi volle dare la possibilità a persone anche della città. Ah, fantastico! Chiamò alcuni batteristi della città, Ferrara, per fare questa audizione, e andò bene, andò bene, poi sai, il treno passa spesso per tante persone, però non è tanto il fatto di riuscire a salire sul terreno, ma è rimanerci che è la cosa più complicata, quindi probabilmente sono stato fortunato e capace anche di sapermi gestire per una questione di affidabilità, più che tecnica personale. E quindi quello è stato il momento, un po' il click che ti ha fatto dire, ok, provo a farlo di lavoro, no, che poi quanti anni avevi? Eh, avevo 22, 21, 22 anni. Che è un'età critica, e anche io mi ricordo quando avevo 19, 20 anni, che dice adesso che cosa faccio nella vita, no, cioè sono delle scelte importanti, tra l'altro io sono un pochino più giovane di te, ma non di tanto, e ricordo che però in quegli anni lì tu avevi questo modello della musica dove vedevi grandi tour, grandi musicisti, grandi session, e dicevi beh, se anche facessi la metà di quello più forte, già sarai felice, no? Oggi è cambiata questa cosa qui, quindi per un ragazzo di oggi qual è il tuo messaggio? Non so se insegni, se hai lievi, ma il messaggio che tu puoi dare a un ragazzo di oggi rispetto all'aspettativa che devi avere e a questo riuscire a rimanere in auge, perché giustamente l'audizione, il provino, la possibilità, tutti più o meno ce la possono avere, può anche andarti bene, che cos'è che ti ha fatto rimanere a galla e cosa consiglieresti ai ragazzi oggi per intraprendere questa carriera? Cioè, com'è cambiata, che studi dovrebbero fare, che skill devono avere? Guarda, io l'unico consiglio che ho sempre dato, perché penso che sia la cosa che anche a me mi ha fatto superare spesso anche i momenti più difficili, è quello di non suonare da soli, suonare il più possibile con altri, per una crescita personale e perché comunque in gruppo si può fare la differenza. Io per cultura, ma anche perché questo è ciò che probabilmente mi ha trasmesso Ellade, era quello di poter essere il battista di una band, non tanto il turnista, ed è stato quello che mi ha fatto andare avanti, perché non mi sono mai sentito realmente un turnista e non ho mai avuto la pretesa di esserlo, perché sapevo di essere sicuramente meno dotato e meno capace di tanti altri. Tra l'altro parliamo di anni in cui era pressoché, non dico impossibile, ma era più difficile entrare in un certo giro, perché era molto chiuso ed era circoscritto al circuito milanese, tra virgolette, io venivo comunque da una città piccola, che al di là della storia grande, perché c'era Ellade Bandini, Arestavolazzi, c'erano comunque dei musicisti grossi, però venivano da altre epoche. Per me è stata dura, però forse perché l'ho presa con leggerezza e non troppa, non dico professionalità, ma non mi sono posto l'obiettivo di dover diventare per forza un turnista. Sono partito con quell'esperienza di quel tour, che era con un artista che si chiamava Leandro Barsotti, e alla fine l'ho fatta quasi come un gioco, però è un gioco che alla fine mi ha portato oltre. Parlami poi dei tuoi lavori successivi, perché tu hai fatto un sacco di tournée, registrazioni, quali sono le cose che ricordi con più soddisfazione, non solo da un punto di vista magari commerciale, ma anche del piacere di lavorare con un determinato artista? C'è qualcuno che vuoi citare? Guarda, io ho avuto la fortuna di lavorare con tanti artisti, però lo dico sempre perché semplicemente credo che sia stato il momento in cui mi sono sentito più appagato. È stato quando sono andato a lavorare con Ron, perché grazie a Ron poi ho lavorato non solo a un suo album con una band fatta di amici praticamente, ma ho potuto avere la libertà di lavorare come più amavo, perché Ron è un grande artista e ci lasciava suonare istintivamente, anche sul suo repertorio, che non è cosa semplice da trovare, perché mentre negli anni 90 c'era una disciplina un pochino più legata a ciò che dovevi eseguire pari al disco, tra virgolette, con lui ho respirato un'atmosfera più libera, più da band e grazie anche alla collaborazione con Ron, poi sono arrivati le collaborazioni sporadiche con Dalla, con Antonacci, con Carboni, con Loredana Bertè, perché Ron comunque era un artista molto stimato, giustamente, ed era un po' un fulcro, una calamita per tanti altri professionisti. Sì, se vedi che lo fa lui, allora certo. E quindi per me è stato il momento dove mi sono sentito più appagato, probabilmente. Poi oggettivamente non è che voglio dire che anche tutte le altre cose che ho fatto sono meno piacevoli o appaganti, però è stato quello il momento secondo me in cui mi sono sentito più... Arriviamo da un paio d'anni particolarmente complicati, sia perché ha lavorato in studio, sia perché ha lavorato dal vivo, naturalmente. Come hai vissuto questo periodo e negli anni tu hai visto, sei arrivato in un momento nel lavoro dove c'era tante date, tourne lunghe, registrazioni, adesso è cambiato moltissimo. Hai vissuto dei momenti di difficoltà? Ti sei mai chiesto, cavole, adesso qua come la mettiamo? Ma è normale, io credo che sia un fatto naturale per tutti i musicisti. Noi viviamo sempre in bilico sul burrone, non abbiamo nessuna certezza, siamo dei lavoratori che non hanno un contratto a tempo indeterminato, di conseguenza bisogna avere tanta pazienza come i pescatori. Penso che se tu non rimani sognatore, come spero e credo che debbano essere tutti i musicisti, non puoi andare avanti. Poi è vero che la pandemia ha mescolato parecchio le carte, perché è qualcosa che nessuno di noi ha mai vissuto e nel nostro settore è stato particolarmente colpito da questa cosa. Sì, credo che il maggior gap che ho provato è stato durante la pandemia, perché il live è venuto meno e di conseguenza anche col fatto che probabilmente adesso il lavoro in studio è collegato soprattutto al live, perché non essendoci più un mercato reale del disco, del disco scusami, come si dice? Del CD della discografia. Del CD esatto, non si vendono più album, quindi di conseguenza anche le case discografiche si rifanno molto al fatto che l'artista possa fare promozione con il live e quindi anche molte cose in studio si sono fermate e penso che sia un fatto naturale che come tutti i professionisti mi sono posto, continuerò, non continuerò, magari siamo al giro di boa, è giusto pensare a un piano B e ci sto ancora pensando e per quanto sia ricominciato il lavoro sono sempre dell'idea che per un fatto mio istintivo devo trovare il modo di cadere in piedi, perché arriverà il momento in cui magari il tuo telefono non suona più e poi penso anche che sia un fatto naturale, c'è un ricambio generazionale in atto, perché lo vedo soprattutto a livello artistico, ci sono un sacco di artisti che sono nati dalla rete, da tanti altri punti che non siano per forza le radio piuttosto che i talent, e credo che anche i musicisti che si stanno legando a questi artisti nascano in maniera differente rispetto ai miei tempi e è oggettivo che a livello anagrafico sono più giovani di me e probabilmente hanno anche un approccio, uno stile che non mi appartiene, quindi è probabile che non potrò andare avanti a lungo. Sai cosa penso, sentendo la musica, io con le bambine piccole ascoltano la musica di oggi e io faccio fatica a ritrovarmi nel messaggio oggettivamente, ma come quando ero ragazzino ascoltavo l'articolo 31, la gente dice ma cos'è sta roba faccio per dire, e allora che cosa succede che anche il musicista che si deve trovare a lavorare con un artista giovane che ha quel modo di vedere le cose, cioè fai fatica a essere il suo musicista se non ti rivedi nel suo stesso spirito, cioè non penso che sia solo una questione di suonare bene uno strumento o di andare lì a fare il tuo lavoro. Quindi questa è una cosa, e come stai pensando di aggiornarti o piuttosto adattarti a questa cosa qui, è una cosa che ti interesserà fare dopo, sai queste sono domande, adesso vorrei andare nel marzullesco, no? No, ma capisco cosa vuoi dire, perché comunque mi è successo negli ultimi anni di fare lavori con artisti anche affermati, in cui capivo che di essere leggermente in flem, ma non tanto per un punto, dal punto di vista stilistico, perché comunque sono artisti che guardano molto anche all'aspetto d'immagine, ed è naturale che al di là della mia età avanzata rispetto da loro, non puoi farmi diventare ciò che non sono, perché mi metti già in una condizione di disagio personale, per cui non riesco più a rendere professionalmente come vorrei. Ho fatto il possibile stilisticamente per avvicinarmi a quelle che sono le richieste, arriverò fin dove posso, perché per me ogni cosa nuova è una sfida da vincere, però credo che arriverò a un punto per cui non potrò più fare parte di questo mondo. Beh, mi rendo conto che adesso vedo un po' di immagini, di live di adesso, di molti artisti, non dico tutti, ma diversi artisti, che oggettivamente provo a mettermi al posto di quel batterista e dico non so se ce la farei, vedo cose che non ce la farei, capisci? E non parlo tanto del petto nudo, che se mi metto il petto nudo io è una cosa agghiacciante, poi magari può piacere. No, beh, ma penso anche che per riuscire a suonare bene un genere lo devi ascoltare. Lo devi ascoltare. Esatto. Faccio l'esempio delle elettroniche, no? Ebbè, non è che è una novità. Oggi se tu non sai usare la centralina, i trigger, il pad, questa roba qui, ma in qualsiasi tour, credo, già sei molto vincolato, perché qualsiasi produzione pop, anche un po' attempata, per così dire, ti capiterà che devi usare i sample, quindi già la mentalità di dire no, questo non lo voglio fare perché non è la mia storia, ti penalizza tantissimo, no? Sì, hai ragione. Può essere quello un limite, qui parliamo dell'aspetto tecnico più che altro, ma io parlo proprio dell'aspetto personale, perché comincia a esserci un gap generazionale tra me e molti colleghi turnisti e artisti che si sente naturalmente, perché ho avuto la fortuna di partire molto giovane, questa è la verità. Quando ero giovane io ero un ribelle, avevo poco più di 20 anni e in tournée con me avevano tutti una decina di anni di media in più di me e venivano da tournée galatiche con De Andrè e Fossate, la serie A di allora, quindi è naturale che io allora mi sentivo un po' a disagio ed ero ribelle. Tornassero quei tempi. Senti, adesso tu in questo momento stai lavorando con Giusy Ferreri, sei in tour, hai lavorato con lei per tantissimi anni. La conoscevo da prima che fosse Giusy Ferreri quella conosciuta a tutti. Stai lavorando in tour, adesso vediamo un po' il tuo kit che hai qui in studio, poi se capiterà vedremo anche quello live perché immagino avrà un'altra cosa. Sì, è diverso. E allora ci mettiamo dietro la batteria e andiamo a fare un po' di studio tour da nerd. Vai, va bene. Ok, vai. Andrea, tu sei un perlista da un sacco di anni. Io sono da poco con la Pearl, però so che tu sei un veterano. Sì, devo dirti la verità. Uno dei miei primi tour con Roberto Vecchioni, già presi a mie spese ovviamente in quell'epoca, grazie a Ellade che era già endorser Pearl, la mia prima Pearl, che era una Pearl che adesso non fanno più un modello in betulla, bellissima, blu con le venature... Le Master, no? Era la Master BMX, una cosa del genere. Fantastico. Era bellissima, andai a prenderla in FBT, nella vecchia sede che era Re Canati in quell'epoca, e presi questa Pearl bellissima con cui feci tutto il tour teatrale ed estivo prima. Quindi sei un perlista da chissà quanti anni. Per qualche anno ho avuto una pausa perché con Aramini Distribuzione mi diede un ADV per qualche anno. Nell'epoca con Ron, con Gianluca Grignani e con qualche altro artista feci con l'ADV e poi nel 95 entrai definitivamente con Pearl. Vai, e allora qua cosa stiamo usando? Guarda qua sto usando in studio perché io sono un grande sperimentatore, mi piace, però ho portato una batteria che oggettivamente è una della fascia economica perché con 1000 euro, poco più, ti prendi un kit completo, che è in acero, senza rinforzi nei cerchi. Devo dirti la verità, ho già fatto diversi lavori in studio e suona veramente bene, è una batteria nata bene, è leggermente leggerina, quindi la porto in studio anche per quello, ma è leggera perché ha le meccaniche più sottili di fatto, però è una batteria... 12-16 è il tuo kit, il mio sito, sì, mediamente uso sempre cassa da 22, 12-16, quest'anno in tour mi trovo con una cassa da 24 perché voglio magari sembrare un pochino più gigante. Bravo, corta o lunga? È un ibrido, è una 24x16. Ah, 24x16, bella come misura. Il rullo vedo anche quello è una serie di fascia medioeconomica che ho già provato. Esatto, e ti dico la verità, l'utility, modern utility, sì, è molto bello in alluminio, è bello, è controllato, è caldo e io mediamente anche lì uso sempre i rullanti, non solo in metallo, ma come misura sempre con altezza 6 pollici e mezzo. 6 e mezzo, rocchettare, non so un po'. Eh sì. Ma ricordo male usavi anche delle bacchettone? Perché io ti conosco da parecchi anni, te l'hai sempre usato? No, adesso uso le tipo le 5B Extreme, una volta erano molto più grosse, è quel famoso gap che ti dicevo prima, a un certo punto quando ho cominciato a lavorare molto in studio ho cambiato il mio stile di, proprio l'approccio sullo strumento a livello di dinamiche, con quelle bacchette era improbabile, perché erano troppo grosse. Sì, 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 lì è Emperor, quindi abbastanza regolare, trasparente? Qua sì, uso l'Emperor trasparenti perché comunque, sai, si lavora molto sul pop, sulla musica leggera, quindi mi piace avere comunque un certo tipo di profondità, di calore, quindi uso un classico Emperor trasparente, dal vivo uso invece l'Emperor sabbiate, perché sono le mie pelli comunque preferite, le sabbiate. Trasparenti sempre sotto però? Allora, ho provato in entrambi le soluzioni, però mi piace di più mantenere una trasparente sotto perché diventa un po' più ibrido. Sì, 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 sì. Invece parlami dei piatti, dei piatti bellissimi. Allora, i piatti questi, guarda, a parte che sono contentissimo, perché anche qua sono con Sabian da diversi anni, questa è la serie mia preferita, sono gli HHX, due sono della serie Evolution, questi Ozone bucati, mentre questi sono i classici HHX, 18-19, uno stage ride classico normale, sono belli perché hanno un bellissimo, hanno il fatto che sono leggermente scurettini e sono anche un po' più controllati nella coda, sono perfetti secondo me sia dal mio che in studio, per la microfonatura, soprattutto se tu suoni in basso come me, che mantengo sempre i piatti non troppo alti, quindi possono creare dei problemi di rientri sui funzioni. Io ti ho sempre visto con un set più o meno così, più o meno così. Il 10 lo usi? Lo usavo, tempo fa usavo più il 10 che il 12 di fronte a me, poi mi sono reso conto effettivamente che non avevo molta profondità di suono e mi sono spostato sul 16. Quindi Bacchette mi ha detto, usi Vick Firth sul 12? Sono Endorser Vick Firth, ho questo modello che uso abitualmente, che sono le Extreme 5B. Sì, ma prima cosa usavi? Le Metal? Sai che non mi ricordo, adesso non vorrei dirti una cosa, mi sembrava che fosse le SD9 possibile, ma erano gigantesche, erano tipo dei pali della luce. Sì, io invece ho fatto il contrario, tu ho cominciato a usare, ma ha convinto a usare delle Bacchette un po' più grandi, sto usando quelle di Virgil Donati, che sono belle grandi, però sono bilanciato. Ha una punta più piccola, vero mi sembra? Sì, hanno la punta Barrel, che è un bel suono sul piatto, però sono pesanti, sono pesanti. Senti, se capita ti verrò a trovare anche dal vivo, così vediamo il setup dal vivo. Mi farebbe molto piacere, dai, davvero. Adesso fammi vedere sta bellissima Sony, che ce la godiamo. Grazie Andrea, bocca al lupo. Anche a te, grazie Corrado. Invece non ho mai avuto problemi. E' anche vero che io negli anni ho cambiato molto il modo di suonare il Charleston, una volta lo pestavo, adesso lo accarezzo tantissimo, perché ho imparato che, a parte il groove è meglio, perché quando senti i casserulanti sei al top, ma è anche più semplice per il fonico. Sì, sì, certo, certo. Infatti anch'io quella cosa del Charleston l'ho notata molto su certi batteristi. Sono dei batteristi che a me mi dita sgruvato. Matt Chamberlain, ad esempio, lui suona quasi solo con la punta. Esatto, uguale, anch'io, lo posso garantire, idem, uguale. E' cambiato il modo di suonare, perché secondo me gruva molto di più un batterista se lo senti così. Questo è lo studio B, l'hai visto? Questi due piccoli qui fanno prettamente le pre-produzioni. Accendi la luce. Piccolino, vedi, però. Sì, ok. Qui editing e pre-produzioni. Puoi usare come boot oppure come come pre-produzioni. Sì, un po' pensato come se fosse un home studio. Sì, sì, sì. Comunque la puoi cablare anche qua. Cioè, di fatto è tutto predisposto. Bello il mobile griffato. Eh, beh, sai. Questa è una chicca. Una chicca feticista. Sì, 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 bello. No, è bello, bello. Una bella cosa. E lì dove si fanno più che altro le voci. Qua fai, ah, ok. Sì. Sia da una parte che dall'altra per le voci perché facciamo un sacco di... Sì, molte voci le fanno anche già dalla batteria. Sessioni in parallelo. Ah, sì, eh? Quindi sì, sì, sì. Bello, eh beh, insomma, ragazzi. Figo.